Questi beauty del periodo invece li ho fatti sul sito Feel Unique dal quale acquisto spesso e anche in questo caso vi lascio sotto nell'info box tutte le informazioni e ho preso un paio di prodotti che erano in offerta e poi dei prodotti prova, ho voluto provare questa linea della John Masters Organics che mi sembra veramente molto valida ed interessante. Il cofanetto che ho preso è questo, all'interno ci sono 4 prodotti, 2 prodotti li ho già provati e sono un doccia schiuma e un latte per il corpo, entrambi alla vaniglia e arancia rossa. Si sente tanto il profumo agrumato dell'arancia rossa ma con questa nota dolce veramente forte della vaniglia si crea un mix veramente molto molto buono e molto interessante. Quindi una volta utilizzati potrei pensare di comprare la full size. Non secca assolutamente la pelle, quindi questo è un prodotto veramente leggerissimo con una schiuma molto leggera ma perfettamente lavante. La pelle rimane perfettamente idratata subito dopo. Questo latte invece è un latte molto molto leggero, quindi veramente gradevole anche in questa stagione perché non lascia la pelle umidiccia o oleosa come spesso fanno le creme che utilizziamo in estate che rimangono proprio in superficie e non vengono assorbite. In questo caso la pelle la assorbe perfettamente e quindi non rimane traccia. Poi la pelle rimane veramente morbidissima. Chiaramente si tratta di prime impressioni perché l'ho usato una volta e mezzo, una volta su tutto il corpo, una volta soltanto sulle braccia. Mi è piaciuto tanto però. Veramente molto leggero, molto piacevole, una texture che assolutamente non lascia scia come spesso succede con i prodotti bio. Questa una volta applicata invece si assorbe perfettamente. Insomma, da tenere in considerazione anche questi due prodotti. Poi ci sono, sempre all'interno di quella pochettina, c'è uno shampoo per capelli normali che devo ancora provare e poi c'è un balsamo con oli di piante organiche, proteine e vitamine.